Ritagliamo diverse pagine di una rivista o di un quotidiano. Prendiamo uno spiedino di legno e colla a stick Cominciamo ad arrotolare un angolo della pagina sul bastoncino. Prima che lo spiedino non si veda più, lo rimuoviamo e continuiamo ad arrotolare. Una volta arrivati all'ultimo angolo, mettiamo un pochino di colla alle estremità e chiudiamo il tutto. Ripetiamo l'operazione fino ad ottenere abbastanza rotoli. Con l'aiuto di uno strumento come questo, appiattiamo il rotolo. Ora scegliamo un oggetto nel quale poter arrotolare la striscia di carta. procediamo quindi aiutandoci con la colla a caldo. Basterà una punta di colla ogni 4-5 cm. facciamo anche un secondo giro. facciamo anche un pochino di colla a caldo. Per misure diverse utilizziamo oggetti diversi. Dopo aver verificato che le misure tornino, componiamo la nostra figura, sempre con la colla a caldo. facciamo un pochino di colla ai due per contornare il tutto procediamo con altre strisce il nostro corso gratuito realizziamo altre strisce di tipo piatto per decorare grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti il primo metodo di decorazione il decoupage dopo aver dato una mano di acrilico bianco scegliamo il disegno adatto quindi con la colla vinilica e dell'acqua incolliamo la carta tagliando la strisce grazie a tutti grazie a tutti una volta terminato diamo una mano di finitura con una vernice protettiva possiamo realizzare forme diverse questo è un altro metodo di decorazione interamente con l'acrilico dopo aver dato un colore di foto utilizziamo il colore bianco per un effetto decappato grazie a tutti alla prossima alla prossima e buon lavoro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti